Ciao, io sono Mila e il mio animaletto magico Morphle può trasformarsi in qualunque cosa io voglia! Non vedo l'ora che inizi la gara delle mongolfiere, Morphle! Sì, gara! Ah! Il primo che arriva alla spiaggia vince questa coppa fantastica! La voglio! Voglio quella coppa, zio Jorn! Partecipiamo alla gara e vinciamola! Ah, ah, ah! A questa gara sono ammesse solo ed esclusivamente le mongolfiere! Eh? Rubiamo una di quelle mongolfiere e poi vinciamo la gara! E il trofeo sarà nostro! Già! Ehi! Tornate qui! Marchi! Marchi! Cosa? Ma che succede? Oh no! Il bandito sta sparando piselli alle mongolfiere! Oh-oh! Morphle, trasformati in un aeroplano per salvare zia Augustine! Oh-oh! Le eliche sono troppo potenti! Morphle, trasformati in un cuscino! Oh, accipicchia quel cattivone di un bandito! Adesso tocca a te vincere la gara! Metticela tutta! Mila! Morphle, servono due grosse braccia per salvare Felipe e Barchi! Grazie! Braille! Braille! Porta! Siamo quasi al traguardo! Sì! 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 E i vincitori sono Mila, Morphle, Felipe e Barchi! Oh-oh-oh-oh! Barchi! Oh-oh! Ero preoccupato! Aspetta! Dov'è la mia mongolfiera? È costata una fortuna! È stata tutta colpa tua! Uffa! Non è giusto! Ecco voi! Due piccoli robot come mi avete chiesto! Perfetto! Ma cosa vi servono? Oh! Eh... Niente! Grazie! Arrivederci! Hai portato tutto, fratello? Eh, sì! Molto bene! Adesso vediamo se funziona! Guarda! Ci sono i due banditi! Guarda! Ci sono i due banditi! No! Il nostro piano funzionerà a meraviglia! Ah-ah! Psst! Oh, Marphle! Mila! Dove... Dov'è palla? Lascia perdere la palla! Perché adesso faremo un altro gioco! Ah-ah-ah! Coraggio! Vieni con me! Ok! Oh! Marphle! Sei venuto a cercare la palla anche tu? No! Oh! Volevi dirmi di fare un altro gioco? Oh! Ok! Hai voglia di andare a casa allora? No! Eh... Hai qualche idea su che cosa fare? No! Hmm... Marphle! Prendi quei gelati! Ah-ah! Mila, non giochi! Mila! Ti stai comportando in modo strano oggi, Marphle! Non hai voluto nemmeno trasformarti! No! L'unica cosa che dici è no, no, no! Papà, credo che Morphle abbia qualcosa che non va! No, no, Mila! Non è carino dire così agli amici! Ciao, Morphle! Come va? No! Eh... Ti andrebbe un bel gelato? Che ne dici? No! Non vuoi il gelato? C'è qualcosa che non va! Oh! Oh no! Ah, mi dispiace tanto, Morphle! Ehi! Aspetta un momento! Hai visto? Te l'avevo detto! Questo non può essere il vero Morphle! I banditi! Adesso Morphle prende quella palla! Sì, Morphle! Puoi prendere quella palla! Oh, sta a guardare! Vuole farlo sul serio! Oh! Oh, ciao, Morphle! Vuoi giocare con noi? Ehi! Papà! Guarda laggiù! Oh no! C'è il papà di Mila! Dobbiamo nasconderci, Jorna! Ciao, Mila! Che cosa fai? Io... Ecco... Sto giocando! Morphle, sali in macchina! Beh, ok, allora. Continua a giocare! Ciao, ciao, Mila! Ciao, papà! Se n'è andato, Jorna! Ora possiamo combinare altri guai! Morphle... Dipingi il muro! No! No! Fai provare a me! Trasformati in un... Auto della polizia! No! Un camion dei pompieri! No! Un elefante! Allora... No! No! Morphle, trasformati in una grande scavatrice! La nostra gara di palloncini d'acqua sulla spiaggia e castelli di sabbia sta per cominciare! Bambini! Contro genitori! Cominciate a costruire i castelli di sabbia... Adesso! I castelli sono fatti! Ora, fuori i palloncini pieni d'acqua! Il castello è perfetto! Vinceremo senz'altro! È ovvio! Sono solo bambini! Vinceremo senz'altro! Oh! Ma... Davvero incredibile! I bambini vincono il primo premio! Sì! Iiii! Iiii! Congratulazioni piccoli! Ci avete battuto alla grande! Andiamo a giocare nel nostro castello! Iiii! 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 Ora posso ottenere io il premio, Morphle! Iiii! 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 E allora?! Noi siamo dei pirati, pirataphil! E qual'è la cosa che amano i pirati? Prova a pensarci! I tesori! Iiii! Iiii! gigante. È vero, però noi abbiamo... il cannone a palloncini d'acqua! Facciamogliela vedere, amici! Oh! 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 Oh, no! Abbiamo terminato i palloncini! Dobbiamo riuscire a trovarne degli altri in fretta, Morphol! Scava una galleria da cui possa uscire! Mentre tu rimetti a posto il nostro castello, io vado a prendere i palloncini d'acqua! Papà, ci servono altri palloncini pieni d'acqua! I pirati hanno attaccato il nostro castello! Mi spiace, ma non abbiamo più palloncini! Però potremmo riempire questi d'acqua! Giusto! E anche questo! Tra poco il tesoro sarà nostro! Pirata Phil! Presto carica il cannone! Ciao, 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 papà! Tornati! Ciao, Mila e... Ciao, Morphol! Come ti sei conciato? Che cosa hai combinato? Beh, abbiamo incontrato una signora che ci ha chiesto di aiutarla a trovare il cappello che aveva perso! Ho perso il mio bel cappello! Potresti aiutarmi a ritrovarlo? Morphol si è trasformato in un cane da caccia e ha cercato il cappello dappertutto! Morphol trovato il cappello! La signora è stata davvero felice che Morphol l'avesse ritrovato! E poi è arrivato il meccanico Joe! Morphol, tu mi devi aiutare! Il mio camion da rimorchio si è rotto! Morphol è trasformato in elefante! E poi in un triceratopo! E poi in un robot! Ah! Ti ringrazio, Morphol! Non sarebbe stato meglio trainarlo? Ehm... Già! Ma poi il costruttore Lorenz! E anche il costruttore Lorenz ci ha chiesto di aiutarlo! Ho lasciato il mio trapano sul tetto di quell'edificio! Morphol prende! Ah! C'era molto fango nel cantiere, papà! Ti ringrazio, Morphol! Sei stato bravissimo, Morphol! Ma adesso devi assolutamente fare un bel bagno! Eh? Morphol non vuole fare bagno! Morphol, non scappare! Oh! Su, dai, coraggio, Morphol! È bello fare il bagno! Morphol non piace il bagno! Oh! Oh! Ti prendo! Oh! 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 Dove sarà andato? Oh! Eccoti qua! Oh! Oh! Su! Non temere, Morphol! È soltanto un bagno! Catturato! Morphle non vuole bagno, no! No! Morphle non vuole bagno! Ti aiuto, papà! Beh, l'importante è che Morphle stia facendo il bagno! A Morphle piace bagno! Cosa? Adesso ti piace? Sì! Matite colorate! Grazie, Babbo Natale! Anche per quest'anno non abbiamo ricevuto nessun regalo di Natale! No! Ehi, l'agente! Quest'anno ho ricevuto in regalo un bel robot nuovo! Quindi quello vecchio non mi servirà più! Oh, papà! Non è magico il Natale? Un robot! E io ho già idea di come possiamo usarlo! Così funziona! Robot Babbo Natale! Vogliamo che tu ci porti tutti i regali che riesci a trovare! Sì! Io vi porterò tutti i regali! Saremo strappieni di regali! Non mi catturerete mai! Dai, prendiamolo! Sì! Che botta! Babbo Natale! Adesso mi prendo i vostri regali! Oh, no! Ridacceli! Vroom! Vroom! Oh, Babbo Natale! Mi prendo i vostri regali! Fermo! Wow! Ma perché ha fatto una cosa del genere? Lo dobbiamo inseguire! Trasformati in un'arena! Fermatelo, Mila e Morphol! Ma cosa? Oh, il mio regalo! Oh, no! Ma Babbo! Va nella discarica! Forse ho capito che cosa sta succedendo! Sta tornando, compare! Ma guarda quant'altro! Ora anche noi abbiamo i nostri regali di Natale! Finalmente! Quelli non sono a patto vostri, signori banditi! Sono Mila e Morphol! Oh, no! Scappiamo! Fateci uscire! Riportiamo i regali ai legittimi proprietari! Oh, sì! Oh, sì! Avviva! Grazie, Morphol! Ciao, Mila e Morphol! Salve, Agente Freeze! Le dobbiamo consegnare un regalo speciale! Oh, no! Questo è un bellissimo regalo! Grazie mille, Mila e Morphol! Finisce sempre così! Sì, così! Mr. Hatchan! Vediamo se sei capace di battere la mia auto volante! Oh, no! Arrenditi, Mr. Hatchan! Oh, così non vale! Questo lo prendo io, pomodorino parlante! E se per caso aveste intenzione di seguirmi, ve la dovrete vedere con la mia auto vivente! Oh, stampato! Non preoccuparti, vedrai che lo prenderemo! E, Mimi, fai tornare normale l'automobile! Oh, oh! Ho paura che ci voglia qualcosa di meglio! Morphol, trasformati in un super-eroe! Superiamolo in volo, Morphol! Oh, no! Andiamocene via di qui! Se tieni tanto a questo bambolotto, ecco! Prendilo! Oh, no! Mr. Hatchan! Lascia perdere, Morphol! Dobbiamo acchiappare il professor Eval! Morphol, attento! Ehi, Mimi! Fa presto! Porta subito, invita Mr. Action! Il vostro eroe è arrivato! Lasciali andare o dovrai vedertela con me, rottame! Mr. Action! Sempre in mezzo a rovinare tutto! Ma non oggi, mio caro! Su, andiamo! Ehi! Dove stai scappando? Ehi! Tieni giù quelle mani! E, Mimi! Presto! Soffia! Sono felice che tutto sia tornato normale! Ehi, Mimi! Morphol! La mia casa sembra scomparsa! Voi sapete che cosa sia successo? Ecco, un'idea ce l'abbiamo! Io ora devo andare, ho una cosa da fare, Morphol! Ma si tratta di un segreto, quindi tu non verrai con me! Oh, ma Morphol vuole venire! No, Morphol! Non posso portarti con me! A più tardi, Morphol! Ma Mila! Mila! Oh, come va, Morphol? Papà, forse sa dov'è Mila! No, mi dispiace, Morphol! Mila! 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 C'è qualche problema, Morphol! Mila con voi! No, mi dispiace, non l'ho vista per niente oggi! Ah! Mila, qui! Cosa? No, Mila non è qui, mi dispiace! Mila, qui allo zoo! No, Morphol! Non è venuta oggi! Mila non è qui! No, Morphol! Dove Mila? Morphol sta piangendo? Non si piange nella mia città! Coraggio, Morphol! Scommetto che Mila ti sta aspettando a casa! Non arrenderti così, Morphol! Non hai ancora controllato il giardino sul retro! Oh! Sorprella! Mila! Buon compleanno, Morphol! Su, dai, presto, apri il tuo regalo! Evviva, Morphol felice! La giustizia non dorme mai! Ma tu sì, dalle nove di sera alle sette di mattina! È ora di combattere il crimine! Subito dopo aver lavato i denti! Oh! Ehi, Mila e Morphol! È arrivata una chiamata per voi! Oh, che può essere? Sono io! È il signor gelataio! Ho appena creato un nuovo gusto di gelato, così squisito da lecarsi i baffi! Però, ora mi trovo dall'altra parte del mondo! E purtroppo me ne è rimasto pochissimo! Oh, no! Non si preoccupi, caro signor gelataio! Arriviamo in un baleno! Quello è Morphol! Se arriverà prima lui dal signor gelataio, sicuramente si mangerà tutto il gelato! No! Oh? Ma quello era un altro Morphol? Oh, oh! Oh, no! La mia auto! E adesso come faccio a inseguire i criminali a piedi? Dobbiamo aiutare l'agente Frieza a recuperare la sua automobile, Morphol! Ah, grazie mille, Morphol! Eh? Io penso che Orpholo non sappia cosa va più veloce sull'acqua! Io invece lo so! Trasformati in un bel motoscapo! Ciao, ciao! Ciao! Grazie Morfolo Entriamo nella giungla adesso Trasformati in una scimmia, Morfolo Un'auto da corsa non è fatta per la giungla, Orfolo Dobbiamo aiutare quella scimmia Morfolo? Oh no, questo è Orfolo Orfolo! Sembra che Orfolo sia arrivato primo Tu hai mangiato l'ultima pallina di gelato! Oh no! È troppo tardi, Morfolo State tranquilli! Ho fatto solo finta che Orfolo mi avesse finito tutto il gelato Così sarebbe andato via Ce n'è ancora il mio nuovissimo gusto per te, te, per la scimmietta E anche un bel cono per me! Grazie mille, signor gelataio! Andiamo al parco a giocare a nasconditi Fatta magia! Non ancora, Morfolo! Devo dire la parola magica! Oh sì! Morfetto coniglietto! Perfetto! Non vedo l'ora di presentare il mio numero di magia alla gara di talenti Proviamolo un'altra volta Morfello per... Oh, ciao! Orfolo fa magia? Oh, certo! Tutti i migliori maghi hanno un assistente Rimani lì dove sei e muovi le braccia in questo modo Magia facile! Morfino leonino! Orfolo, no ma... Oh, Orfolo, non piangere! Forse la magia non è cosa per te Perché non vai a aiutare loro due a preparare il loro numero? Ah, sì! Con l'aiuto di un animale magico Vinceremo di sicuro la gara di talenti! Salta! Oh, il mio povero piccolo Barchi! Fa tutto bene, cucciolotto mio! Orfolo! Addestrare cani non è il tuo forte! Perché non vai a provare a fare il giocogliere? Orfolo, è il giocogliere! Con un animale magico scommetto che riuscirò a battere il numero del cane addestrato! Hai mangiato tutti i pasticcini! Ora non posso più fare la giocogliera! April, cos'è successo? La tua palla è in cima all'albero! Morfolo, fa spuntare l'elica! Grazie! Amici, la gara di talenti sta per cominciare! E adesso abbiamo... Mila, la maga! Mila? Morfolo, dov'è il cappello? Mila ha cappello! No, dico il mio cappello da mago! Non posso fare nessuna magia se non l'ho in testa! Orfolo, cappello magico! Chi sarà il vincitore? Il premio per il miglior talento va... Mila, la maga! E ai suoi magici animali! Stanotte, Babbo Natale è passato dal tuo negozio! Allora avrò in dono un animale magico, paparino! Non te lo dico, Mila! Quello che fa Babbo Natale è un affare segretissimo! Apri il tuo regalo e scopri da sola se è un animale magico! Che bello! Allora che cos'è? Eh, niente! Sei sicura? Certo! Non c'è niente qua dentro! Perché non provi a guardare meglio? Caspiterina! Il pacchetto è un animale magico! Si chiama Morphle e ora ti mostro perché! Ciao, Morphle! Morphle, trasformati in un gatto! Fantastico! Adesso ho un gatto! Morphle, trasformati in un cavallo! Evviva! Ora ho un cavallo! Morphle, trasformati in un dinosauro! Questa è il Natale più magico di sempre! Tu sei il miglior regalo che potessi avere, Morphle! Puoi trasformarti in tutto quello che voglio! Trasformati in un televisore! Evviva! Noia! Non ti piace essere un televisore, Morphle? Già, Morphle si annoia! Morphle! Allora trasformati in... Te stesso! Morphle? Quindi questo sei tu! Ora dimmi, che cosa ti piacerebbe fare, Morphle? Piace... Forse... Ecco, Morphle non lo sa! D'accordo! Allora proviamo a fare delle cose divertenti! E poi tu mi dirai qual è quella che preferisci! Possiamo fare un disegno natalizio! Possiamo decorare l'albero di Natale! Oh! O possiamo fare un pupazzo di neve! Morphle, trasformati in una scavatrice! Ora fai un pupazzo di neve qui! Oh! Bravo! È venuto benissimo! Morphle piace neve! Morphle piace neve! Oh! 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 Tu sai tanti regali di Natale in uno solo, Morphle! E sai per me qual è il più bello di tutti? Oh! Stavatrice? No! Oh! TV? No! Gotto! No, Morphle! Il regalo più bello è avere un nuovo amico! Mila, Morphle, amici! Mila, Morphle, amici! Giochiamo ancora a palle di neve! Sì! Sì! Oh! Oh no! Oh! Caspita! Cos'è stato? Babbo Natale! Oh! Ciao, Mila! Oh, che disastro! Mi dispiace che ti abbiamo colpito con la palla di neve! Sai, stavamo giocando! Certo! E giocare con la neve è davvero divertente! Ma purtroppo la mia slitta si è rotta! Ora non so più come fare a portare gli ultimi regali ai bambini! Babbo Natale, tu mi hai portato il mio animale magico Morphle come regalo di Natale! Ricordi? Potrebbe trasformarsi in una slitta! Mi sembra proprio che la tua sia un'ottima idea! Morphle, trasformati in una slitta per me! Oh oh! Cosa? Ma Morphle, sei un animale magico! Ti dovresti trasformare in tutto quello che vogliamo! Ma Mila chiede Morphle! Certo, è giusto! Mila, ti dispiace chiedere a Morphle di trasformarsi in una nuova slitta? Morphle, trasformati in una slitta per Babbo Natale! E adesso fatti spuntare due belle ali! E adesso un potente motore a razzo! Ora diventa più grande, così anche le renne potranno salire a bordo! Perfetto, Morphle! Possiamo andare! Morphle, trasformati in un'ambulanza! Morphle, trasformati in un'ambulanza! Morphle, trasformati in un'ambulanza! Sì! Così va bene, Morphle! Ma a me è appena venuta un'idea migliore! Morphle, ora trasformati in un'ambulanza volante! Grazie mille per aver portato Troy all'ospedale, Mila e Morphle! Sa, quando sarò grande, anche io voglio diventare un medico! Così potrò aiutare le persone a stare meglio, proprio come lei! È ammirevole, Mila, ma voglio dirti un segreto! Io non aiuto solo le persone! Sono anche il dottore che cura tutte le creature mitologiche che vivono in città e nei dintorni! Mi sarebbe di grande aiuto poter usare questa magica ambulanza per visitare i miei pazienti mitologici! Certo che può usarla! La prima fermata è l'isola Stella Marina Che? Il prossimo è il gigante della montagna! Eccolo! Sulla cima! Riproviamo, Morphle! Come facciamo ad avvicinarci al gigante? A me è venuta un'idea! Morphle, aggiungi due motori a turboelica all'ambulanza! Ecco! Grazie per l'aiuto! Morphle è stato grande! Oh no! Temo che facendoci da ambulanza si sia preso l'influenza da un paziente! Povero Morphle! La prego, faccia qualcosa per farlo guarire, dottore! Gli do immediatamente la medicina! Ma il resto è compito tuo, Mila! Perché le cose di cui Morphle ora ha più bisogno sono amore e coccole! Io e papà ti abbiamo preparato una bella zuppa! Tieni! Ora ti leggo una storia! C'era una volta un'ambulanza rossa che correndo a curare i malati si prese l'influenza! Ma il dottore le diede la medicina e in un battibaleno la coraggiosa ambulanza tornò ancora più in forma... Eccole ragazzi! Le montagne russe più incredibili del mondo! C'è un giro della morte... Curve strette... E una risalita altissima! L'unico problema è che... Bisogna essere alti fin qui per salirci! Forse io conosco un certo scienziato che potrebbe risolvere il problema! Questo siero ti farà diventare adulta! Ma... Sei proprio sicura di essere pronta per questo, Mila? Assolutamente sì! Beh, allora... Procediamo! Oh, Mila, ora grande! Mila, sei proprio tu? Oh no! Sono la zia di Mila! Wow, vi assomigliate parecchio! Comunque, sei grande abbastanza! Potete andare! Sì! È stato bello! È stato meraviglioso! E ora che sono cresciuta, posso fare tutto ciò che voglio! Come cresciuta? Andiamo, Morphle! Qualcuno vuole cavalcare il delfino? Io! Anche io! Mi dispiace, signorina, ma tu sei grande! Troppo grande per questo delfino! Voglio far finta di essere una maestra, Morphle! Mi dispiace, signorina, ma non le è permesso entrare! Io sono la zia di Mila! Oh, ho sentito che era in città! Piacere di conoscerla, ma ecco, vede, Mila non è qui! Devo tornare in classe al più presto! Salve! Non credevo che essere un'adulta fosse così noioso e difficile! Questo è un parco giochi per bambini, signorina! E io ho il dovere di fargli una multa! Oh, mi spiace, signore, ma non posso pagarla! Vede, io non ho dei soldi! E allora le suggerisco di trovarsi un lavoro! Basta così! Ho deciso che non voglio più essere un'adulta, sono stufa! Sei proprio sicura di voler tornare a essere una bambina? Non sono mai stata così sicura in vita mia! Mila, Mila, l'hai saputo! Saputo che cosa? Stanno costruendo delle nuove montagne russe! Stavolta bisogna essere ancora più grandi! Andrò a vederle! Non vuoi diventare di nuovo grande per salirci? No, per favore! Essere un'adulta non è per niente divertente come pensavo! Perciò ho intenzione di giocare e restare bambina per tutto il tempo possibile! Gelai! Acchiappami! Dove scappi? Torna qui! Morpho, tira! Vai! Morpho, prende palla! Morpho, tanto stanco! Morpho, non gioca! Morpho, tanto stanco! Doppio Orpho! Orpho, gioca a palla! Palla noioso! no pittura pareti orpol gioca da solo orpol grosso guaio cosa no orpol io guai o è altro orpol doppio orpol randy oh no non diverto aiuto aiuto doppio orpol fermo non diverto più oh oh centro doppio orpol gioco non bello morpol venuta idea doppio orpol vieni vieni gioca canestro bello gioca anche orpol solo se giochiamo tutti insieme d'accordo bravo fatto canestro morfol trasformati in un dinosauro giocattolo oh 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 per mille provette vuote ho fatto cadere lo spararaggi vitalizzante senti che stavo andando a presentare al convegno nazionale delle scienze e ho colpito i vostri dinosauri portandoli in vita ma ora è rotto e non posso più farli tornare ai giocattoli Mila, puoi tenerli d'occhio mentre aggiusto lo spararaggi? ma certo professore, volentieri sono sicura che ci divertiremo un sacco insieme ottimo, sarò di ritorno al più presto allora dinosauri giocattolo mentre aspettiamo che il professore sia di ritorno facciamo un bel gioco wow oh 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 sì adesso giochiamo a prenderci prendici T-Rex sì 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 è sì 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Ah, è sistemato. Mi ci è voluto un bel po' di tempo, ma ora l'ho aggiustato. Torniamo subito dai dinosauri giocattolo. Mi auguro che nel frattempo non abbiano combinato guai. Oh, per mille provette vuote! Salve, professore! Vuole unirsi al nostro picnic! Sa, ci stiamo divertendo un sacco! Grazie, Mila. Ma io penso che sia ora di far ridiventare questi dinosauri dei giocattoli. Fermo lì! Oh, no! Ascolti, professore. Io non credo che i dinosauri vogliano tornare ad essere dei giocattoli. Vede, si stanno divertendo troppo come dinosauri in carne ed ossa. Capisco, Mila. Solo che la città non è luogo per dei dinosauri. Oh, mi è venuta un'idea! Forse il guardiano dello zoo troverà un posto per loro. Caspita, guarda che roba! Sono dinosauri giocattolo giganti, quelli che vedo? Certo, il professore li ha accidentalmente portati in vita con il suo spararaggi. Lei non avrebbe un posto dove potrebbero starsene tranquilli, signor guardiano? Ecco, nello zoo ci sarebbe una zona riservata ai grossi animali, ma è già occupata dagli elefanti. Però... Durante i miei viaggi mi sembra di aver visto una bella isola disabitata dove i tuoi amici potrebbero vivere molto felici. Andiamo subito a cercarla, Morphle! Eccola all'isola! Sembra che si siano già ambientati! Quest'isola sarà la casa perfetta per voi, ma adesso noi dobbiamo tornare alle nostre case! Ciao, dinosauri giocattolo! Ciao, ciao! Ecco voi, signori! Come avete chiesto, ho costruito un'orda di robot! Perfetto! Sono felice che ne abbiate ordinati così tanti, ma per che cosa ne avete bisogno, se posso chiedere? Niente di speciale, professore! E per favore, continui a costruirne altri per noi! Mila! Devi ridarmi subito la mia macchinina! La tua macchinina? Ma io non ho la tua macchinina, Troi! Certo che ce l'hai tu! Ti ho visto prenderla prima! Se non me la ridai immediatamente, corro a casa tua a dirlo a tuo padre! Mila, non ho la tua macchinina! Va bene, io vado, mi dispiace! Troi, aspetta! Oh, ecco di qua, Mila! Poco fa stavo andando ad una riunione importante quando tu mi hai lanciato del fango! Io non farei mai una cosa del genere! Devo andare a casa a cambiarmi ora, ma non illuderti di cavartela così, signorinella! Non ti sembra un po' strano, Morphle? Dobbiamo scoprire che cosa sta succedendo! Vorrei che ti trasformassi in un elicottero! Morphle, guarda! Mila, combina guai! Morphle, quella non sono io! Io sono qui con te! Quello è sicuramente un robot! Dobbiamo seguirlo, Morphle! Forse ci serve una calamita! Adesso portiamolo alla prigione! Il poliziotto Freeze saprà occuparsene meglio di lui! Poliziotto Freeze! Abbiamo catturato un robot che combinava guai in giro! E immagino sia uguale a questo! Cosa? Ma quanti robot ci sono? Professore, ci servono altri robot! Sto facendo il più in fretta possibile! Sono sicura che i robot siano andati da questa parte! Sì, sono tante mila! Forza, adesso vai a prenderci dei gelati! Ok! Dobbiamo prendere quel telecomando, Morphle! Mi è appena venuta un'idea! Vieni con me! Guardate, c'è un Morphle! 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 Prendetelo! E tu dove stai andando, robottino? Ma cosa? Coraggio, robot! Acciuffate i banditi! Come al solito, c'eravate voi due dietro! Staremo un po' stretti qui, non è vero, Stein? Levatevi dai piedi, robot! No, forza, muovetevi! Prendetemi la! No! Oh, poverino! Guarda, Morphle! Ho trovato un uovo colorato! Wow! Morphle colora uovo! Morphle colora uovo! Sì! Trasformati in un pennello! Forza! Morphle vuole colorare un grande uovo! Sono sicuro che quelle di dinosauro siano molto grandi! Dinosauro? Sì! Papà ha avuto un'idea fantastica! Andiamo a cercare uova di dinosauro da colorare! Wow! Ecco, Triceratopo! È un uovo, guarda! Buongiorno, signora Triceratopo! Possiamo colorare il tuo uovo! Il tuo uovo è colorato, ti piace? Oh, no! Vuoi forse che coloriamo anche il tuo uovo? Wow! Wow! Dobbiamo darci da fare, Morphle! Ciao! Dinosauri felici! Sì! Ciao, ciao! Guarda, Morphle! Oh, oh! Quello non è un piccolo Triceratopo! È un cucciolo di pterodattilo, Morphle! Uova scambiate! Non preoccuparti! Morphle e io andremo a cercare il tuo cucciolo per riportartelo! Sì! Morphle, trasformati in un elicottero! Guarda chi c'è laggiù! Oh, scusaci tanto, pterodattilo! Abbiamo scambiato le uova! Ecco qui il tuo cucciolo! Ups! Ti abbiamo riportato il tuo cucciolo! Ecco! Triceratopo cucciolo! Già! Dobbiamo riportarlo subito alla sua mamma! Oh! Oh! E siamo giusto in tempo! Guarda! Tra pochissimo saremo di nuovo a casa nostra! Ciao, ciao! Eccovi ragazzi! Sarete felici di sapere che c'è un regalo per voi! Wow! Sei pronto a colorare quest'uovo gigante? Sì! Ciao, Mila e Morphle! Guardate le mie scarpe a rotelle! Fortissime! Venite con me a giocare al parco! Voglio provare nuove acrobazie! Possiamo andare, papino? Certo! Non scordate i pattini a rotelle! Ci vediamo! Ma io non li ho dei pattini a rotelle! Posso prestarti un mio vecchio paio! Dovrebbe essere qua! Evviva! Eccoli! I pattini in linea di Lewis Lightspeeder! Quanto li adoravo! Grazie, papà! Sono bellissimi! Piano, piano! Peccato! Un giorno li userai! Ma per ora sono grandi! Ho avuto un'idea! Posso utilizzare la magia di Incra per farmi crescere abbastanza perché i pattini mi vadano bene! Incra! Fammi diventare grande! Funziona! Grazie! Mila, grande! Già, ma troppo grande per i pattini di papà! Ehi, si può vedere il parco da qua in alto! C'è Enzo! Essere grandi può essere utile! Zio Jorn, guarda! Sono Mila e Morphol! Sono giganti! Io penso che un animale magico abbia fatto crescere Mila! Voglio quell'animale, zio! E lo voglio subito! Così prenderò un gelato e lo farò diventare enorme! Oh, scusami! Essere grande non è bello se non posso giocare con gli amici! Mila e Morphol! Mi serve il vostro aiuto! I banditi stanno combinando dei guai! In città stanno facendo diventare tutto enorme! Oh! Anche tu! Devono aver preso Incra! Morphol, trasformati in un'auto da corsa! Oh! Ah! Fatto! Bravo! Andiamo! Wee! Wee! Oh! Oh, ecco! Incra! Ti ha trovato! Morphol! Trasformati subito in una gabbia per catturare i banditi! Ehi! Zio Yorn! Aiuto! Sì! Non è sempre divertente essere grande! Forza! Andiamo a vedere Enzo che fa le acrobacce sui pattini adesso! Oh! Questo è un omaggio dell'agente di polizia, Freeze! Per ringraziarti per aver preso i banditi! Guarda! Scarpi a rotelle! È della mia misura! Wow! Chissà da dove saranno spuntati così all'improvviso tutti questi giocattoli! Morphol non sa! Facciamo prima un po' d'ordine e dopo proveremo insieme a risolvere il mistero! Sì! Però noi siamo soltanto in due e nel negozio c'è un mare di giocattoli! Caspita! Qui ci sono due Morphol! Due meglio! Due meglio! Diventa tutto più facile e veloce quando puoi lavorare con gli amici! Ma come è possibile che ci siano così tanti giocattoli e anche due Morphol? È stata opera del Dupler! Il potere magico di questo animaletto è creare copie di qualsiasi cosa! Bello! Ma che può essere? Buongiorno, signore! Come lei stesso può vedere noi siamo dei veri Boy Scout! Stiamo vendendo biscotti! Hanno un bell'aspetto! Va bene! Comprerò i vostri biscotti! Mila! Morphol! I banditi hanno rubato il Dupler! Dobbiamo acciuffarli presto! Però sono già molto lontani! Che cosa possiamo usare per inseguirli? Triciclo! È troppo lento! Non va bene! Morphol! Trasformati in una super veloce auto della polizia! Eccoli là! Oh no! Scappiamo! Sono spariti! Dove sono? Ero certa fossero andati da questa parte! Guarda Morphol! Sono dietro di noi adesso! Ma com'è possibile? Non ci sfuggirete mai! Dupler non è con loro però Morphol! Allora dove avete portato Dupler? Dupler? Magari lo hanno preso i banditi dell'orchestra o i banditi delle piume! Troppi banditi oggi! O forse invece ha deciso di andare con i banditi Morphol! No! Morphol! Trasformati in un... E noi siamo i banditi dei cerotti! Morphol! Il nostro nuovo dispositivo può usare il potere di qualsiasi animaletto magico e non c'è neanche bisogno che ci prendiamo cura dell'impiastro! E ora grazie a Dupler possiamo riprodurre copie di noi stessi! Ruote! Non abbiamo intenzione di essere i banditi delle ruote! Noi vogliamo essere... I banditi delle grassette! Ah ah ah! Già! Noi! I banditi Morphol? Abbiamo rapito Morphol! Bene! Facciamolo trasformare in un bulldozer così sarà più facile rubare le ruote delle macchine! No! Trasformiamolo in una pinzetta così sarà più facile strappare le piume! Sei un idiota! Tu sei un idiota! No! Voi lo siete! Oh! Ci sono molti Morphol! Morphol! Trasformati in un bulldozer! Presto! Ehi Morphol! Trasformati in una pinzetta! Morphol non sta facendo proprio niente! Certo che no! Perché non lo abbiamo ancora messo nel nostro dispositivo! Un momento! Non farlo! Se Dupler esce da lì noi torneremo a essere soltanto in due! Morphol scappa! Morphol ha piano? In cosa trasformiamo? No! Morphol non ha piano! Priscipo! No! Quello troppo lento! Morphol ha bisogno di Mila! Finalmente! Devo correre da Morphol al più presto! Mila! Mila aiuta Morphol! Oh Mila piano! Ciao Morphol! Sì! Ma ci sono troppi banditi qui! Se lavorano tutti insieme non c'è nulla che possiamo fare! banditi non lavorano insieme! Banditi litigano e basta! Allora abbiamo una possibilità forse! Morphol uno! Trasformati in un T-Rex! Morphol due! Trasformati in un robot! Morphol tre! Trasformati in un grande ventaglio! Ora in questo modo potrete spazzare via le piume insieme! Oh no! Morphol quattro! Trasformati in una rampa! Banditi dupler! Ci servono altre piume! No! Ci servono altre ruote! Duplica le ruote! È un'idea davvero sciocca! La tua è un'idea davvero sciocca! Ci servono altre ruote! Piume! Credo sia il momento di liberare dupler! Addio altri Morphol! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! No no no! Non faremo sempre come dici tu! E invece sì che lo faremo! Morphol! Trasformati in un grande robot e va a catturarli! Cosa? Oh no! E poi c'erano quattro Morphol e anche quattro banditi ed è stato davvero divertente! Cavolo! A me sembra terrificante! No terrificante! Ma i banditi non lavorano insieme e noi invece sì! E poi noi abbiamo liberato dupler! E poi c'era di nuovo un solo Morphol! Due Morphol! Due abbracci! Ehi Yorna! Sì Stein! Sono felice che sia tu il bandito rimasto quando tutti gli altri sono scomparsi! Oh! Anch'io Stein! Buonanotte Yorna! Buonanotte Stein! Morphol! Oggi è l'ultimo giorno dell'anno e quindi bisogna festeggiare! Oh! Ah! Fuoco artificio! Esatto! Ci siamo fatti un sacco di nuovi amici quest'anno Morphol! Ora trasformati in una casa volante! Così possiamo andare a recuperarli tutti e invitarli alla festa! Dove vogliamo? Cominciamo da... Casa di Phoebe! Sì! Ciao Mila e Morphol! Ciao Phoebe! Io e Morphol stiamo radunando tutti gli amici che ci siamo fatti quest'anno per i festeggiamenti dell'anno nuovo! Ti piacerebbe venire con noi? È una bellissima idea! Sicuro che vengo con voi! Il prossimo che dobbiamo recuperare vive proprio in cima alle montagne! Gigante montagna! Ciao gigante della montagna! Stiamo riunendo tutti i nostri nuovi amici per i festeggiamenti del nuovo anno! Ti piacerebbe venire insieme a noi? Ripartiamo, Morphol! Mi pare che la loro nuova casa sia questa! I dinosauri! Sì! Vi va di venire con noi a festeggiare! Oh no! Per il dinosauro più grosso non c'è spazio! Morphol, trasformati in una casa più grande! Ottimo! La prossima fermata è... Eccola là! Scegli la sirena! Cercare altri amici! Oh! Salve, signor sindaco! C'è qualcosa che non va! Ciao, Mila! Siamo qui per i festeggiamenti del nuovo anno! Ma i fuochi d'artificio sono spariti! Oh no! Penso che potrei rimediare con questa! Morphol, trasformati in un aeroplano! Buon anno a tutti quanti! Eccolo che potrei rimediare con questa! Oh sì! Ce l'ho fatta! Ho vinto un orsetto, papà! Molto brava, Mila! Abbraccio! Un pupazzo parlante! Papà! Sei un orsetto! Cosa? Abbraccio! Ma allora è un orsetto magico, papà? Sì! È il magico Cubby! Chiunque lo abbracci si trasforma in un orsetto fino ad un nuovo abbraccio! Io voglio uno di quelli! Lo zio Yorn te lo vince subito! Io voglio un orsetto! Ecco! Lo voglio che parli e cammini come quelli! È divertente! Possiamo rimanere orsetti per un po'? Certo! Guarda che belle orecchie pelose! Psst! Ehi, Morphle! Guarda laggiù, piccolo! A qualcuno serve aiuto! Dov'è Cubby? Oh, no! Ora non possiamo tornare normali! Morphle, dispiace! Tranquilli! Lo troveremo! Eccolo là! Cubby! Abbraccia il bandito e poi scappa! Abbraccio! Eccolo là! Morphle, trasformati in un raggio! Vai! Morphle, trasformati in un raggio! Eccolo là il robot! Ehi, quello è mio! Bravissimi, Mila e Morphle! Abbracciami! Abbraccio! 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 Ehi! Fateci scendere da qui! Voglio tornare normale! Abbraccio! No! Ti ringrazio, Morphle! Abbiamo finito! Con la mia ultima grande invenzione anche tu potrai trasformarti esattamente come Morphle! Oh, è bello! Sono un gatto! Oh! Così non potrai più prendermi! Guarda! Prova a prendermi adesso! Forza! Oh! Un opterodattilo! Oh, sì! Ottima idea, Morphle! Giochiamo a fare i dinosauri! Io lo so già qual è il dinosauro che vorrei tanto essere! Il più grande e grandissimo di tutti! Eccomi! Sono l'argentinosauro! Scivolato! E hai visto che coda gigantesca! Oh, no! Credo che l'invenzione si sia rotta! Adesso non potrò più ritrasformarmi in me stessa! Professore! Professor Rashid! Sì! Hai ragione! Devo tornare in fretta dal professor Rashid! Ma sono troppo grande così! Non riuscirò a passare tra gli alberi! Morphle, trasformati in una gru! Oh, no! Morphle! Sono incastrata! Morphle, trasformati in un grandissimo robot! Oh, mamma! Lei non so quanto mi dispiace, professor Rashid! Ho rotto la sua invenzione! E non posso più ritrasformarmi in me stessa! Non preoccuparti! Posso sistemarla in un baleno! Mila! Ritrasformati in Mila! Questa può anche riprenderla lei, professor Rashid! Da adesso in poi lascerò le trasformazioni al mio amico Morphle! Ti ringrazio, Morphle! Sei davvero molto gentile ad aiutare sempre chi ha bisogno di una mano! Morphle, aiuta anche lui! Ti prego, torna giù, Mr. Posey! Ah, Morphle! Mi puoi aiutare? Mr. Posey è bloccato su quell'albero e io non vedo l'ora ti riabbracciare! Riusciresti a riportarlo da me? Non era questo che volevo dire! Facci scendere! Se non aveste rubato la mia macchina della polizia, sareste già in galera a quest'ora! Ma a noi non importa! Già! Morphle! Ah, per fortuna sei qui! Mi aiuti a portare i due banditi alla stazione di polizia? Oh, ok! Oh, no! Cosa? Morphle, aspettami! Banditi in stazione di polizia, ciao! Non ci ha portati dritti in galera, Stein! Sì! Scappiamo via di qui! Oh, ehi, Morphle! Puoi aiutarmi a sollevare queste casse? Sono davvero pesanti per me! Mm-hmm! Oh! Oh! No, Morphle! Non volevo che le mettessi sul tetto! Ah, ecco ti qui, Morphle! Che cosa è successo? Il tuo piccolo amico russo mi ha messo qui sul ladro ed è scappato! Non ci credo, impossibile! Morphle non ha fatto questo! Io l'ho visto, sono certa! Morphle, mi vuoi dire dove hai lasciato i banditi? Non abbiamo nemmeno visto i banditi! Ma poco fa ti ho detto di portarli alla stazione di polizia, Morphle! Corriamo subito a catturarli! Morphle, trasformati in un robot! Oh, accidenti! Il tuo scherzetto è già durato abbastanza, Morphle! Per favore, riporta giù le casse immediatamente! Morphle è stato con me tutto il tempo, papà! Dici davvero? Ma a me è sembrato proprio Morphle! Ed era anche rosso come Morphle! Tranne che per quelle due macchiette verdi! Macchiette verdi? Ho capito ora! È Orphle! Dobbiamo andare a fermarlo, Morphle! Ehi, ciao, Morphle! Potresti aiutarmi a mettere un po' in ordine? Guarda, Morphle! Morphle si è colorato di rosso per essere come te! Oh, no! Che ne dici di lavarlo, Morphle? Trasformati in un camion dei pompieri! Oh! Sta' attento, Morphle! Quello non è Morphle! È Orphle! Perfetto! Adesso sei di nuovo verde e non potrai più ingannare nessun altro Orphle! Te ringrazio, vero, Morphle? Orphle tornerà! Orphle tornerà! Oh, guarda, Morphle! Oh, guarda, Morphle! Noi hanno perso il loro colore! Morphle, trasformati in un pennello magico e va a dipingere! Morphle! Oh, guarda! Morphle! Morphle! L'erba non è azzurra, è verde! Bel lavoro, Morphle! Oh, che cosa fa, signore? Il mio semaforo era verde! No, era verde dalla mia parte! È bianco? Tutti questi oggetti non hanno un colore! Oh, sono proprio come me! Ahà! Cro, ma allora sei tu che ti ne vai in giro a togliere i colori alle cose in tutta la città? Non lo dovresti fare! Un mondo senza alcun colore non è affatto bello! Oh, è divertente! Già, è molto divertente! Andiamo a dipingere gli animali con colori bizzarri, sarà uno spazio! Ah, eccoti qua, Croma! Ti stavo giusto cercando! In città stanno accadendo cose molto strane perché tu stai portando via tutti i colori! Morphle può aiutare Croma a sistemare ogni cosa ridipingendo tutto con i colori originali! Salve, ragazzi! Non so come, ma il camion dei pompieri ha perso il suo colore! Niente paura! Morphle e Croma possono aiutarla! No, Morphle! Il camion dei pompieri deve essere rosso! Proprio come te! Vi ringrazio tanto, Morphle e Croma! Ciao, Cloud Monster! Ciao, Cloud Monster! Bene! Sembra che lei avesse ragione! Prego, passi pure! Bravi! Siete riusciti a risolvere tutti i problemi della città! Morphle e Croma sono davvero un'ottima squadra! A Croma piace moltissimo dipingere! Sì, adora colorare! Mi è venuta un'idea! Croma, ti piacerebbe avere un amico che ami colori proprio come te? Io... Che meraviglia! Sei l'animaletto magico perfetto per un pittore come me! Ciao! Io sono Mila e lui è il mio magico amico Morphle che si trasforma in tutto quello che vuole! La magia delle caramelle di Halloween! Non è ancora finito? Manca poco! Oh! Sembra che anche quest'anno vinceremo la gara di Halloween della casa meglio adopata, mio caro Barchi! Adoro travestirmi per Halloween! Che cosa diventerai, Morphle? Un coniglietto carino! Forse non abbastanza spaventoso! Troppo spaventoso! Dolcetto scherzetto! Prima aiutiamo papà a fare gli addobbi! Oh! Morphle vuole caramelle! Però non troppe, Morphle! O perderai per un po' il potere di trasformarti! Oh no! Morphle paura! A volte il buio può spaventare, ma non c'è niente di cui aver paura! Ecco, una piccola luce può farci sentire meglio! Dolcetto scherzetto! È solo Orphle! Scusa tanto, Orphle! Ma al momento non abbiamo nessun dolcetto a portata di mano! Niente dolcetto! Scherzetto! Mila! Sono quassù! Dolcetto! Scherzetto! Morphle, trasformati in un T-Rex per spaventarlo! Grazie, Morphle! Mi hai salvato! Siamo i più temibili banditi di Halloween! Già, e non c'è niente di più divertente che andare a rubare di casa in casa le decorazioni! Con tutti questi attori... Dobby, possiamo essere sicuri che vinceremo il premio per la casa meglio decorata! E lei chi sarebbe, papà? Questa è Candy Ray! Penso che tu le piaccia! Anche lei è un animale magico! Certo! Resterà con noi finché non le troveremo una nuova casa! Oh! Quasi dimenticavo! Non dite la parola dolcetto vicino a Candy Ray! Perché, papà? Perché se sente quella parola a Halloween... Trasforma tutto quello che vede in caramelle! Bello! Morpholama caramelle! Divertente! Certo! Ma non si trasforma te in caramella! Miam, miam, miam! Mi mangio Mila! Ah! Non lo diremo mai! Finisco di appendere le lanterne, poi mi aiutate con le altre decorazioni! Ciao, ciao, Candy Ray! Sono Mila e lui è il mio animaletto magico Morphol! Morphol, fame! Che ne dici di una bella mela? Dolcetto o scherzetto? Mela caramella! Morphol, cos'hai combinato? Morphol dice... Dolcetto! Oh, no! Le nostre belle decorazioni sono scomparse! Erano là e adesso non ci sono! E io che speravo tanto di vincere il premio quest'anno! Non ti preoccupare! Rimedieremo noi! Te ne procureremo altri! Morphol, aiuta papà! Ci serve qualche... Ecco, qualche zucca! Dov'è che crescono? In campagna! Forse Felipe potrebbe regalarcene qualcuna! Dobbiamo andarci in fretta! Morphol, trasformati in un'auto da corsa! Oh, wow! Presa! Felipe! Felipe! Boom! È tutto il giorno che aspetto di spaventare qualcuno con il mio travestimento! È favoloso, Felipe! Un perfetto spaventapasseri! E vai! Halloween è la mia festa preferita! Come posso aiutarvi, amici? Hai qualche zucca per noi? Certo! Ce n'è un intero campo laggiù! Ne troverete un sacco! Hooray! Bisogna attraversare il labirinto di Gran Turco! Ti mostro la... Strada! Ehi, aspetta! Morphol! Morphol! Ciao, Gallinella! Mila! Morphol! Mila! Morphol, perso! Morphol! Mila! Morphol! Trasformati in un gigante! Così ti vedo! Morphol! Morphol! Mila! Morphol, eccati qua! Morphol ama tanto Mila! Ehi, amici! Candy Ray! È Orphol! Dolcetto scherzetto! Che cosa succede? Morphol ha detto una parola e quando Candy Ray la sente trasforma le cose in caramelle. Quindi, ha trasformato il mio grano turco in un campo di caramelle? Ma è fantastico! Allora, qual è la parola? Morphol non dice... Morphol, trasformati anche tu in un robot gigante! Forte! Questo è l'Halloween migliore di sempre! Morphol, non mangiare troppe caramelle! Ricordalo! Cosa? Oh, no! Orphol non trasforma! Hai perso il tuo potere perché hai mangiato troppe caramelle! Orphol, perché hai portato via Candy Ray? Porphol piace caramelle! Ma niente, amici, per fare dolcetto scherzetto! Vuoi venire con me? Evviva! Queste zucche staranno velone con tutte le altre decorazioni rubate! Ora siamo sicuri di vincere il premio per la casa meglio addobbata! Oh, i banditi stanno rubando tutte le zucche! Morphol, trasformati subito in un elicottero! Partiamo alla caccia dei banditi! Sipi, notti! Sipi, notti! Ah! Epa! Oh no! non nella mia città le mie mani sono troppo piccole trasformati in un elicottero con delle belle ma non grosse dobbiamo prenderle prima che cadono e si rompono tutte mi è venuta un'idea dolcetto scherzetto sei diventato un bandito gommoso compare anche tu sei commoso d'aiuto con queste braccia non riesco a pilotare oh no dobbiamo farli fermare morfol trasformati in un ragno e inseguili presto fila una bella ragnatela morfol fermi vi dichiaro in arresto per lancio abusivo di zucche questa non ci voleva non usciremo mai di prigione in tempo per partecipare alla gara della casa con i migliori addobbi di halloween e ora andiamo dritto in centrale sono finite tutte le zucche morfol no aiuta papi forse april può mostrarci come fare delle decorazioni lei è la migliore in queste cose sì apri morfol trasformati in un'auto da corsa per arrivare velocemente da apri oh no ancora oh no guarda che hai combinato non vinceremo mai buon halloween april ciao mila e marfol e lei chi sarebbe? candy ray un animale magico oh davvero che dolce piacere candy ray tu sapresti come fare delle decorazioni di halloween certo ora vi faccio vedere accomodatevi il mio laboratorio è nella cantina oh morfol un po' paura oh oh cado voilà oh tanto buio idea una luce fa sentire morfol meglio oh penso che il necessario sia qui oh oh allora forse è qui oh oh non c'è due senza tre trovato oh oh si deve piegare il foglio in questo modo e poi si fanno due tagli per gli occhietti e un altro taglio per un bel sorriso oh 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 o così se volete il broncio che bello oh morfol prova ben fatto ben fatto oh oh dimenticavo che succede candy ray ti ha trasformato in un orsetto gommoso con i suoi poteri magici oh oh cipicchiolino andiamo a dirlo a papà lui saprà cosa fare no sento già il profumino della vittoria siamo giusto in tempo papà abbiamo delle decorazioni molto bene e avete trovato candy ray lo so che tu avevi detto di non pronunciare quella parola speciale però l'ho fatto e ora April è una sirena gommosa oh mamma sì in effetti è gommosa oh anche morfol detto hai confessato bravo è importante confidarsi con un adulto quando si combina un pasticcio scusami April è tutta colpa mia niente paura April tornerà normale a mezzanotte il potere di candy ray termina a quell'ora evviva questo è l'halloween più divertente che abbia mai passato guardate come è ribalzo appendiamo le vostre splendide decorazioni prima che cominci la gara sì che succede? ehi lasciali andare torna Bucky e questo che cos'è Bucky? oh cartaccia oh no cosa possiamo fare adesso? mi è venuta un'idea seguitemi presto dolcetto scherzetto io ho fame rubiamo le caramelle eccomi qua fermi banditi vi dichiaro in arresto perciò il vincitore del premio annuale per le migliori decorazioni di Halloween è... meraviglioso è con immenso piacere mio caro signore che io le consegno questo trofeo per la più bella casa di Halloween evviva incredibile non avevo mai visto niente di simile veramente notevole non avrei potuto farcela senza il vostro aiuto casa dolce casa a Mila e Poppy serve Morpho così evviva gelato non dimenticarti che se mangi troppo gelato per un po' di tempo perdi il potere di trasformarti ho scordato il borsellino gelato pagalo zio Yorn cosa? veramente non ho un soldo, Winston io pensavo che li avessi tu se non sei in grado di pagarmi il gelato lo dovrai rubare al gelataio io lo voglio, capito? ehi, attento, il camioncino sta spargendo... salsa al cioccolato dappertutto oh no, che disastro Mila Mila fermi, ladri Morpho, trasformati in un... Mila gelato papà c'è qualcuno che ha sete? ho portato dell'ottimo succo di mela dalla fattoria papà i banditi hanno il camioncino dei gelati e Morpho l'era a bordo oh no, corriamo a salvarlo ci serve l'aiuto di un animale magico grove eccolo lui solleva le cose eccoli là Morpho Morpho, trasformati in un elicottero oh no Morpho, non trasforma oh, Morpho, mangiato troppo gelato ehi, ascolta, Grab sollevaci per farci superare il traffico resisti, Morpho, arriviamo grab, sollevaci al di là del fiume non c'è più gelato il gelato è esaurito oh no non è rimasto neanche un gelato e tutti i bambini sono così accaldati io ho avuto un'idea papà, possiamo dividere il succo di mela con loro? sicuro bella trovata Morpho, trasformati in una macchina per granite chi vuole una bella granita alla mela? ha un gusto davvero delizioso sono certo che d'ora in avanti la offrirò anch'io evviva! sì grazie, Jollyphant ora basta gelato gelato! gelato! Morpho, trasformati in un bulldozer così potremo pulire questo gran disastro di gelato ora Morpho non può trasformare Morpho è troppo pieno Jollyphant non si ferma continua a fare gelato non so più dove metterlo ormai già e non fa per niente bene alla salute di Morpho questa è la soluzione è trovare qualcosa di utile da far fare a Jollyphant ok, Jollyphant mostra a Giraldo quello che sai fare cosa ne dici allora? ti andrebbe di farti dare una mano dal nostro abile amico Jollyphant? no, 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 e no perché così è troppo facile la Giraldo gelati non è una fabbrica di distribuzione di gelati io mi considero un artista guardate, c'è un incendio in quella casa ma al pompiere è finita l'acqua per spegnere il fuoco e Morpho non può ancora trasformarsi non ce la fa perché ha mangiato troppo gelato Jollyphant, usa il tuo gelato per spegnere l'incendio wow, forse il nostro amico Jollyphant può essere molto utile ai vigili del fuoco della città sei stato bravissimo lo sai, sei un vero eroe un eroe? mi ci vorranno giorni per pulire questo disastro oh, temo che il signor Vandibus abbia ragione mi dispiace non aver trovato il lavoro e il posto giusti per te, amico ma non ti preoccupare avremo sempre un posto tutto per te al Magic Pet Store c'è nessuno? buongiorno salve cerco un animaletto magico che possa venire a rallegrare i bambini dell'ospedale coi Marfa! Morphle, coraggio! Trasformati in un elicottero! Ciao, ciao, Jollyphant! I tuoi denti sono in perfette condizioni! Lo credo, glieli spazzolo due volte al giorno! Ora possiamo andare da un altro animale magico, dottore? Certamente, Mila! Trasformati in un'ambulanza, Morphle! Il dentista degli animali magici sta arrivando! Sei pronto per il controllo dentale, piccolo? Nessun problema! È tutto a posto! Ora restano da visitare solo gli animali magici del negozio di animali, giusto? Esatto! Poi avremo finito tutti i controlli! Partenza, Morphle! Molto bene! Il prossimo! Allora, vediamo un po'... Accipicchia! Hai una piccola carie, tranquillo, non è niente di grave! Te l'ha giusto con questo! Ehi! Ma dove scappi? Oh no! Si è spaventato! Lo dobbiamo fermare prima che finisca col farsi male! Morphle, trasformati in un cavallo! Fermo! Non paura! Dentista non fa male! Oh! Provi a mettere via quello! Ops! Hai ragione! Trasformati in un dragone! Smetti di correre! Non c'è niente di cui aver paura! Oh! Accidenti! Come facciamo a fermarlo? Ci serve qualcosa che sappia nuotare molto veloce e che sia abbastanza forte da fermare quella barca! Morphle, trasformati in un coccodrillo! Ora, ferma la barca! Morphle! Mi spiace di averti fatto paura, ma è molto importante che curiamo subito la carie! Lo so che adesso non ti fa male, ma di certo te ne farai in futuro se non lasci che il dottore te la curi! Va bene, Morphle! Puoi lasciarlo andare ora! Morphle! Morphle! Ma le denti! Oh no! Fa vedere! Anche tu hai una piccola carie, Morphle! Ma tu non hai paura del dentista, vero? Torniamo all'ambulatorio! Rimessi a nuovo! E visto che siete stati così coraggiosi, un regalino! Sì! Io sono il supereroe più forte del mondo! Infatti posso sollevare quest'auto senza problemi! Morphle, proviamoci anche noi! Io ho moltissimi poteri e guardate, so volare! Sì! Wahoo! Aiuto! 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 Ma chi voleva soltanto giocare? Stia tranquilla, non morde! Voglio che lo porti subito lontano da me! Vada immediatamente via col suo cane, signore! Che esagerazione! Siete stati meravigliosi, supereroi! Che devo ringraziare per l'aiuto! Come vi chiamate? Io sono... Non le diremo i nostri nomi! Perché siamo i supereroi mascherati! E vogliamo che le nostre identità restino segrete! Restituiti i trofei, furfanti! Sono i primi trofei della nostra vita! Non ve li rideremo! Sì! Adesso sono ufficialmente il ballerino di danza classica più bravo della città! D'accordo, va bene! Potete riprendervi i vostri trofei! No, no! Tenete pure quello che hai in mano! Vediamo, dice... I più bravi a farsi catturare! Siamo campioni di qualcosa, finalmente! Eccoci qui in diretta con le persone che hanno salvato i trofei della città dai banditi! Abbiamo una sola domanda da farvi! Chi siete voi? Non possiamo dirvi i nostri nomi! Perché noi siamo i supereroi mascherati! E le nostre identità restino... Io sono Troy! Io sono April! Morro! Oh no! Cosa sarà successo? Quelli sono portali temporali! Per tutte le provette, come è potuto accadere! Non sono oggetti della nostra epoca e qualcuno forse li starà cercando! Dovremmo riportarli al loro posto, allora! Hai ragione! Ottima idea, Mila! Questo piccolo dispositivo sembra molto tecnologico! Già! Quindi molto probabilmente è arrivato dal futuro! Hai ragione! Ed è lì che andremo! Prima fermata, il futuro! Sì! Uh 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 uh! Oh! Ah 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 ah! Ehi, un momento! Questo non mi sembra affatto il futuro! Oh no! Quel signore laggiù sembra essere in pericolo! Morphol, trasformati in uno pterodattilo! Grazie mille per avermi salvato, amici di Viaggi nel Tempo! Non sapete che mi è successo! Stavo facendo delle ricerche in questa zona quando il mio telecomando temporale è scomparso! Sta parlando di questo, forse? Ah, sì! Vi ringrazio tantissimo! Oh, posso tornare a casa ora! Oh? Oh! D'accordo, tenete le mani all'interno del veicolo! Forza, si parte! Siamo diretti verso l'epoca medievale! Sì, per riportare la spada nel passato! Direi che questa non sembra affatto un'epoca adatta a una spada medievale! Certo, perché non siamo affatto nell'epoca medievale! Che cos'ha che non va oggi questa macchina? Eccola! La spada è il mio cimelio di famiglia! Me l'hanno rubata! Un cimelio di famiglia? Non l'abbiamo rubata noi! Noi siamo qui per restituirla! È quello che direbbe un ladro! Poliziotti, arrestateli! Oh, no! Beh, almeno la spada è tornata al suo proprietario Ma continua a non capire perché sembra andare tutto storto oggi Non si rimproveri di nulla, professore Rimani un solo oggetto da restituire Questo è vero! Va bene! Sono curioso di vedere dove andremo a finire ora Eccoci qui! Nell'epoca medievale! Finalmente! Abbiamo fatto un giro un pochino lungo, ma almeno ci siamo Però mi domando se l'uovo venga da qui Per tutte le provette, perché la gente sta correndo via? Voi! Voi avete l'uovo del drago! Per favore, dovete riconsegnarlo al drago! È in fretta! Quindi si tratta di mamma drago che sta cercando il suo uovo Dobbiamo restituirglielo, ma come? Morphle, trasformati anche tu in un drago presto! E lui, chi sarebbe? Morphle, sei proprio tu! Ho capito! Tu sei il motivo per cui non ne va dritta una oggi Per colpa tua? Mamma drago ha quasi perso il suo cucciolo Capisci che significa? Beh, ci sono stati un po' di problemi oggi Ma finalmente ognuno ha riavuto quello che aveva perso E sono abbastanza certo che Orphle abbia imparato la lezione Morphle, trasformati in un feroce T-Rex! Troppo feroce! Così mi metti davvero paura! Avanti, Morphle! Svegliati! Gelato! Oh, signor gelataio! Potrebbe suonare ancora la sua musichetta per Morphle? Volentieri! Gelato! Ecco di servito! E ora andiamo a cercare l'animaletto magico che ti ha fatto addormentare! Ci potrebbe prestare il suo registratore per un po', signor gelataio! Ma certamente! La ringrazio! Guarda, Morphle! Mezza città è addormentata! Scommetto che è stato l'animaletto magico! Mi sembra molto pericoloso! Dobbiamo fermarlo prima che succeda un guaio! Molto bene! Cerchiamo ancora! Allora, sei pronto, Maximilian? No, Max! Che cosa stai facendo? Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Oh, no! Morphle! Trasformati subito in un elefante e spruzzagli un bel getto d'acqua sul muso! Phew! Grazie mille, Morphle! Continuiamo a cercare! Morphle, trasformati in un aeroplano! Da quella parte! Da quella parte, Morphle! Io penso che stia cercando un posto per dormire tranquillo! Oh, no, Morphle! Oh, no, Morphle! Non dormire! Oh, so cosa posso fare! Gelato! Bene! Morphle, trasformati in un letto volante! Oh! Così l'animaletto magico verrà verso di noi! Tutto quello che desidera è dormire! E' lassù in alto, Morphle! Oh! Oh!